Vi auguro una serena notte con questo messaggio. Giocosità. Per riconquistare l'amore, lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Gli angeli del cuore sono cherubini che incarnano tutte le cose romantiche e sono dotati di un gioioso e fanciullesco senso del gioco. Si dilettano con le meraviglie dell'amore e ti chiedono di fare lo stesso. Gli angeli vogliono aiutarti a innamorarti di nuovo della vita e ti guidano a godere di te stesso. Tutto questo deriva da uno spirito di gioia e avventura. Gli angeli ti chiedono Quando è stata l'ultima volta che ti sei divertito? Se non te lo ricordi, allora il tempo è scaduto da un pezzo ed è ora di inserire in agenda qualche momento di gioco e spensieratezza. Gli angeli dicono che il divertimento è una necessità e non un lusso. Le attività che svolgi possono essere gratuite, come esplorare la natura, fare un'audizione per uno spettacolo teatrale locale, iscriversi a un centro sportivo, provare qualcosa di nuovo. Giocare è un ottimo modo di investire il tempo perché rigenera le energie e risolleva l'umore. Il gioco è fondamentale anche nelle relazioni per mantenere vivo lo spirito libero dei primi appuntamenti. Programma veri e propri primi appuntamenti. Con il tuo partner e pianificate a turno attività divertenti da fare insieme, come il minigolf, il karaoke, passeggiare in un giardino fiorito o far volare gli aquiloni. Questo è il messaggio per augurarvi una serena notte.